Per il secondo anno la lista nella città in comune ha organizzato una festa in piazza San Paolo a Ripadarno, per tre giorni la popoliamo con dibattiti, con cene e con concerti. Abbiamo iniziato giovedì con un dibattito sul territorio e la salvaguardia del territorio con la proposta di fare un parco della Piana nella zona nord tra Pisa e Monti Pisani. E una beffa ci attende comunque, per passione di un altro. Venerdì abbiamo fatto invece un dibattito su educare alle differenze, una forma di mettere in rete pratiche per contrastare questo attacco alle diversità e contro i pregiudizi. Oggi sabato c'è il dibattito sulla Grecia, domani ci sarà il referendum per cui i greci dovranno decidere se accettare o no le proposte della Troica e oggi ne vogliamo discutere con i cittadini. Infine oggi ci sarà la proiezione di un video ricordo di Giorgio Vecchiani, a quello del cuore della memoria, in memoria del presidente dell'Ampio e partigiano Giorgio Vecchiani che è scomparso un paio di mesi fa. E lei viene e ha il passo più a lungo, quando dice buongiorno, piscerai sulla banca d'Italia, ma non fucirai il grembo. Ci senti Francesco? Sì, buonasera a tutti, un saluto dalla Grecia, sono qui a Napoli, a circa 150 km da Atene. Io partirei Francesco dalla giornata di ieri, dalle manifestazioni che ci sono state, dalla piazza Sintagma. Sia interessi interni che interessi esterni alla Grecia hanno cercato di travisare il significato referendabile. In Grecia le televisioni sono contro il governo e fanno un gioco sporchissimo. Comunque, ieri c'è stata una grossa manifestazione enorme, oceanica, in piazza Sintagma davanti al Parlamento per riempire una piazza come è stata riempita ieri, io penso che siamo veramente davanti a una grossa determinazione. Questo è il palco che rompe la voce, quando il canto è più dolce. Poi ogni sera ci sono cene, la cena palestinese, quella mediterranea, e stasera la cena a sorpresa di Riva Mancina e poi a seguire i concerti. Grazie a tutti! Non basta una poesia per farti ringraziare le due chitarre accordate per farti rilassare E questo amore da pazzi, che porterà più alla follia, non senti i lievi lamenti del cuore, che ci trascinano via, ma un prato, una piazza e un pari, una città straniera, e la cena a sorpresa di Riva Mancina e poi a seguire i concerti di Riva Mancina e poi a seguire i concerti di Riva Mancina e poi a seguire i concerti. Riva Mancina e poi a seguire i concerti di Riva Mancina e poi a seguire i concerti di Riva Mancina e poi a seguire i concerti. ho lasciato, ho piaccia con un fratello morto e poi sono andato in formazione, io potevo morire anch'io e non mi hanno mai proibito niente. Mi fate mai, mai. Un film... Un film... Grazie a tutti